chiamatelo culo chiamatelo come cazzo volete non me ne frega un cazzo ma vaffanculo si girano ogni tanto la fortuna partita che si stava mettendo come le altre attacchi attacchi giochi un in più tutta la partita si sblocca su un'autorete anche se la io e meritava prima il bandaggio però ogni tanto la fortuna cazzo ci gira perché questa come si era messa questa prima sera zero questa partita qua comunque alla faccia dei detrattori e tutti quelli che aspettavano all'ennesimo passo falso ancora zero col subiti la portiamo a casa la portiamo a casa grande cabal io devo capire perché sto ragazzo non giocava più spiace per te la scuizia perché ragazza che la sui secondo me è un giocatore che se si sblocca mentalmente purtroppo in una fase che qualsiasi cosa fa sbaglio oggi ha avuto anche due palle gol oggi un buonissimo lavici e questo non voglio vedere che compatti si va a prendere i palloni fra le sponde cazzo vedi che lo sai fare lo sai fare comunque a tutti i detrattori che si aspettavano il passo falso con l'autorete di chila la portiamo a casa vittoria fondamentale questa la juventus che ripeto meritava il vantaggio sono anche prima sfortunato l'aveccio la traversa una lascia che dopo l'espulsione ha fatto il pullman in difesa dal primo tempo e già li vedo quelli che avevano preparati i video e invece sfrangolo facciamo noi sfrangolo facciamo noi sfrangolo facciamo noi ragazzi vittoria fondamentale contava a vincere l'abbiamo fatto continuiamo a non prendere gol di gregorio ancora una volta spettatore non pagante va bene così cazzo continuiamo così grande cabal grande juve vamos cazzo un po' un po' un po' un po' un po'